Oggi si conclude un ciclo che è iniziato il primo gennaio con un regalo. Oggi 31 dicembre voglio concludere con un altro regalo. Concludere nel senso che i tre minuti grezzi come avrete notato non è più giornaliero ma lo faccio quando ho qualcosa da dire. Allora che regalo vi voglio fare oggi? È il regalo delle regole di mosca che voi direte ma che sono queste regole di mosca? Sicuramente le conoscete perché se avete mai guardato un film di spionaggio o letto un libro di spionaggio sicuramente si parlava o comunque si applicavano le regole di mosca che sono le regole da seguire per diventare una spia che non si fa catturare. Sono dieci sono state codificate ma non è che esistano così insomma sono state codificate io ve le racconto e poi fatene l'uso che volete perché così applicando le regole di mosca potrete sentirvi anche voi dei personaggi di un romanzo delle spie avventuriere anche quando andate al supermercato a fare la spesa. Allora la regola numero uno dice non date mai niente per scontato e questa mi sembra una regola che si possa applicare tranquillamente anche nella nostra vita. Poi non andare mai contro il tuo istinto quando senti una cosa nello stomaco di pancia che ti dice questa cosa un po po ecco seguite la pancia. La numero tre è che tutti potenzialmente sono controllati dal tuo nemico questo vuol dire di andarci piano di andarci cauti di non allargarsi mai troppo di non raccontare cose che non si dovrebbero raccontare. Un'altra regola non guardarti alle spalle perché guardarsi alle spalle significa pensare di essere seguiti e questa regola dice non guardatevi alle spalle perché non sei mai completamente solo o sola c'è sempre qualcuno che ti guarda quindi il trionfo della paranoia più totale che tutti ti stanno guardando tutti ti stanno spiando. La regola numero cinque vai col flusso i mimetizzati non dare nell'occhio confonditi nella folla regola numero sei varia sempre le cose che fai non non fare non fare troppo spesso le stesse cose quindi si un po imprevedibile. Numero sette fai credere al tuo nemico che possa stare tranquillo quindi dagli un falso senso di sicurezza la numero otto non prendertela con il tuo nemico perché devi sempre rispettarlo la numero nove scegli tu il tempo il momento il luogo di agire e la numero dieci. Tieni sempre le tue opzioni tutte aperte aggiungo una chiosa che queste che vi ho letto sono le Moscow rules in inglese su wikipedia ci sono altre quattro lingue il cinese il russo il francese e il lombardo vi lascio a voi a pensare non lo so se c'è qualcosa da pensare ci sentiremo ancora.